Buongiorno amici del Resto del Carlino.it, pochissimi giorni alla sfida fondamentale per la salvezza Torino-Bologna che si giocherà domenica prossima. Il Bologna appunto partirà domani per il ritiro di Pavia dove resterà fino alle immediate ore della vigilia. E' qui che Pappadopolo dovrà preparare questa partita davvero importante. Per il momento ci sono da registrare delle notizie molto preziose per il Bologna, la prima delle quali è la riconferma di Marco Divaio che ancora una volta ha detto resto al Bologna, nonostante le avance piuttosto insistite della Fiorentina. E questo è un punto di partenza fondamentale per il Bologna di domani in qualsiasi categoria si debba trovare. Marco Divaio, 21 gol, ha trovato a Bologna un ambiente importante per lui, per la sua famiglia e soprattutto anche la possibilità di rinascere al grande calcio. Questa è una prova di fedeltà importante per un giocatore che in questa stagione si è segnalato ai massimi vertici. Per quanto riguarda l'assetto della squadra c'è invece un Pappadopolo che sta cercando di far fronte alle assenze che costelleranno il Bologna nella partita di Torino, in particolare le assenze nel settore di centro campo dove Mingazzini non ci sarà e neppure Mutarelli, entrambi squalificati. Per ovviare a queste assenze Pappadopolo sta pensando a un 4-5-1, cioè a un ritorno alla formula usata più volte da Mijailovic. Quattro difensori in linea, cinque centrocampisti con due esterni magari particolarmente aggressivi e il solo Divaio in avanti. Quindi la rinuncia al fantasista dietro la punta che è stato fin qui ad Ailton. La squadra potrebbe schierarsi con Marchini e Coelho, il brasiliano che ha fatto bene nell'ultima partita, sugli esterni e un trio di centrocampo composto da Valiani, quindi accentrato invece che giocare sulla fascia, Volpi e Mudingai. Divaio in attacco, ovviamente Valiani potrebbe essere l'uomo di collegamento, un uomo che ha anche un certo spessore fisico tra il centrocampo e l'attacco. La linea difensiva potrebbe schierarsi con Zenoni, Moras e Castellini centrali perché Terzi è stato provato più volte come esterno di sinistra al posto di Belleri. Evidentemente le indicazioni fornite dall'ex laziale non sono parse particolarmente confortanti per Papadopolo. Vista così sulla carta, sembra una squadra molto funzionale, un Bologna capace di chiudere tutti i varchi e di ripartire in velocità, magari proprio sulle corsie esterne dove Marchini e Coelho potrebbero dire e scrivere cose importanti. Auguriamoci che questo piano possa arrivare a piena attuazione con il Torino e intanto andiamo avanti in questa settimana fondamentale.